Fai qualche passettino e capisci se te la senti. Manuele con te? Naturalmente, quel nastrino che si sta magnocchiando, prima o poi si rompe e lui cerca di mangiarselo. Cosa stai facendo? Si lascerò stare così, no? Volevo sapere se eri da solo o no. Dimmi. Eh. Eh. Vedi che non si vede quasi più niente sotto? C'è un pochino le crosticine qua e là, però il grosso è andato. Guarda, 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 guarda. Lì sotto si vedono le crosticine. Invece su una mia zucchetta si vede poco poco. Guarda qua, 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 qua. Fatti toccare. Lui deve giocare. A me la pallina. La pallina. Eh. Sì, 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 sì. Ma è il patronato che ci deve guardare per i soldi, per i soldi, io dico, dell'accompagnamento. I soldi dell'accompagnamento ti sono arrivati? No. No. Allora, il patronato, tu glielo devi dire, che devono essere loro. A fare tutte le... Tu gli hai portato tutte le...